Nel Memorial Marcucci scende in campo la padrona di casa, la nuova Tor Trettesse di Mr. Damiano Buffa, affronta nel primo match della giornata i danesi del North Island. Poche le emozioni ma parte subito bene la nuova Tor Trettesse che trova il gol del vantaggio al minuto numero 16 del primo tempo, lo mette a segno il numero 6 della formazione di Mr. Damiano Buffa, esattamente Francesco Pompili che trova il tempo giusto per battere rete e siglare così l'1-0 momentaneo che porta in vantaggio la nuova Tor Trettesse contro la formazione danese. Ecco l'esultanza da parte di Pompili tutta la squadra, si fa vedere la formazione ospite su un calcio piazzato, qui ci mette una pezza Morelli con la sfera che poi termina sulla traversa e torna in campo. Nei minuti finali del match ci prova il nuovo entrato Ferrini a scuotere i suoi, qui una conclusione di sinistro, poi due minuti dal termine ancora una volta la nuova Tor Trettesse pericolosa ed in apposso di pala, qui il pallone arriva al centro, nuova conclusione sempre da parte di Ferrini con la sfera ben parata a terra dal portiere danese. Questa è l'ultima emozione dell'incontro non certo esaltante con la nuova Tor Trettesse che vince però per 1-0 gol messo a segno da Pompili al sedicesimo, una nuova Tor Trettesse che guadagna così primi tre punti importanti del Memorial in vista delle gare di domani.